Inizio soft per la nuova isola pedonale di Piazza Castello a Milano. Numerosissimi vigili presenti in zona, circa 120 su più turni. Oggi l'inaugurazione nella settimana tra Pasqua e la festività del 25 aprile. Poco traffico e di conseguenza pochi problemi. Bisognerà vedere cosa accadrà nei prossimi giorni quando il traffico si intensificherà. Da stamane dunque una realtà l'annunciata pedonalizzazione davanti al castello. In attesa delle fioriere e dei nuovi arredi, sono state poste temporaneamente delle transenne di plastica bianca e arancio per delimitare la zona riservata ai pedoni. Un'area di 15.000 metri quadrati, compresa tra le vie Quintino, Selle e Minghetti, destinata a manifestazioni culturali e sportive, oltre a iniziative di vario tipo. Spunteranno nuovi chioschi, panchine e anche sdraio. Le auto dei residenti potranno circolare nei controviali e sono aumentati i parcheggi sulle strisce gialle, mentre sono quasi scomparsi quelli sulle strisce blu. I pullman vengono trasferiti nel lato del castello verso l'acquario. In pratica il traffico è stato deviato su Foro Bonaparte. E qui ci sono grosse perplessità da parte di residenti, commercianti e anche delle opposizioni a Palazzo Marino, che ipotizzano possibili paralisi nella circolazione stradale durante le giornate di traffico più intenso. Il centro-destra intende promuovere anche possibili ricorsi legali. E proprio Foro Bonaparte è diventato a doppio senso all'incrocio con Via Legadio. Via Legadio a sua volta ospita una corsia preferenziale per mezzi pubblici e taxi, sino a Via Quintino Sella. Via Lanza è diventata senso unico da Foro Bonaparte verso il castello. Sono stati distribuiti 13.000 volantini che illustrano le novità viabilistiche. L'assessore Pierfrancesco Marana ha fatto sapere che le prossime settimane serviranno come test ed eventualmente potranno scattare modifiche o migliorie alla pedonalizzazione. Intanto la linea 57 non passa più dal castello, ma sono state collocate nuove fermate nelle vicinanze. Grazie a tutti.